ma quanto bello è vedere un film horror al cinema sul grande schermo la magia del grande schermo che è impareggiabile peccato che poi in programmazione c'è immaginari e la magia svanisce completamente se volete saperne di più rimanere rimanete qui rimanete su in genere horror io sono sempre greg e facciamo una piccola analisi di questo immaginari un film coprodotto dalla blue mouse diretto da jeff wadlow che ha già fatto vedere che cosa di che cosa non è capace di fare con film ma anche di qualche anno fa tipo nickname enigmista roba tipo obbligo verità cose totalmente dimenticabili fino ad arrivare questo immaginari che è dimenticabile anch'esso se non per il fatto che è talmente irritante almeno per me che insomma per un po' ti rimane narra la storia di una donna di una giovane donna di nome jessica che torna nella sua casa di famiglia rimasta vuota e lo fa con il suo nuovo compagno che è padre di due ragazze ha due figlie quindi lei jessica è la matrimia di un adolescente l'immancabile adolescente con cui si scontrerà insomma sempre le solite cose e la più piccola che è sempre la parte più debole che è quella che verrà poi messa in pericolo perché perché trova all'interno di questa casa un orsacchiotto che chiamerà teddy e che diventa il suo amico immaginario da qui il titolo bene qui inizia la vicenda banale finché vogliamo ma tutte le storie anche anche le più banali se ben costruite e ben fatte possono essere interessanti peccato che qui di ben costruito ben fatto non c'è nulla a partire da un prologo poco incisivo da una storia che si sviluppa per almeno tutta la prima metà su basandosi su comunque aspetti e situazioni che sono tipiche quindi personaggi monodimensionali mancanza di profondità anche se ne avrebbero perché perché jessica ne ha di problemi di situazioni che verranno sviluppate nel film ce l'ha anche la piccola ma sono le solite situazioni sono le solite cose già viste dialoghi tra l'altro tra l'altro al limite dell'imbarazzante e personaggi stessi al limite dell'imbarazzante un film che va avanti fino a un colpo di scena un'evoluzione narrativa che sposta quella che è un obiettivo incentrato su quello che poteva essere semplicemente un orsacchiotto indemoniato mostruoso pericoloso e cattivo ma che diventa maggiormente un film che si sposta sull'aspetto dell'amico immaginario e approfondisce questo concetto bene direte voi interessante sì peccato che si basa su presupposti narrativi logico narrativi che non stanno in piedi me inganna totalmente lo spettatore perché fa vedere delle cose che poi non tornano nel colpo di scena questa cosa la approfondisco in una piccola parte finale spoiler che farò più avanti perlomeno adesso potete stare qui perché è la parte no spoiler tutta la seconda parte dovrebbe essere la più interessante perché basato sull'amico immaginario sull'aspetto dell'amico immaginario su quanto ci sia anche di profondo e di importante nella storia delle vicende del passato di jessica che è una disegnatrice e che con questa sua fantasia la sua fantasia sarà una parte centrale del film peccato che però il tutto si sviluppi con la solito scontro tra i buoni e i cattivi la parte mostruosa un finale che un pre finale che poteva essere quello chiudere la vicenda e che poteva in parte tirare su le sorti e risolvere un po' i problemi di questo film che rimane problematico perché prosegue chiude il film in maniera ancora meno interessante e fiacca di tutto quello che è l'evoluzione narrativa fiacca dall'inizio alla fine tra l'altro infarcita dei soliti jumpscare inutili a livello narrativo inutili a livello anche di crescita ed evoluzione della tensione fino allo spavento ci sono i soliti jumpscare alcuni di questi sono talmente risibili che sono fatti tra i personaggi stessi della famiglia che si approcciano tra una stanza e l'altra e prendono paura effetti sonori a tutto volume e a ciliegine sulla torta un clamoroso errore a livello registico e di montaggio dove un protagonista un personaggio si spaventa per un suono che è l'effetto sonoro del film che dovrebbe spaventare fa saltare lo spettatore sulla poltrona ma che fa saltare per appunto una una messa in scena bitamente bislacca fa saltare il personaggio del film un suono extra diegetico che il personaggio non sente e che è quello l'elemento scatenante della dello spavento sì è vero che c'è anche qualcosa di visivo ma noterete e avete notato che è fatto talmente male che di fatto si spaventa per l'effetto sonoro è uno dei tanti errori legati anche ai presupposti sbagliati logico narrativi che non tornano nello farci ne farci l'evoluzione narrativa e farci vedere il colpo di scena che sarebbe ripeto interessante come la storia potrebbe essere interessante perché ho parlato della protagonista la disegnatrice beh pensiamo per esempio alla profondità di storia di una di babaduc ad esempio anche qui una donna in quel caso una scrittrice e quanto c'è di profondo a livello psicologico in quella storia nei rapporti tra le persone e qui invece quanto i rapporti tra le persone insoliti stupidi immancabili screzzi tra l'adolescente di turno la bambina che è in difficoltà il marito che se ne va a zonzo lasciando come al solito la famiglia appena traslogata in una nuova casa a badare ai guai che ne verranno fuori in queste storie trite ritrite un qualcosa di veramente noioso banale fatto male diretto male con dei punti macchina anche questi noiosi con situazioni tutte prevedibili di cui parlerò nella parte spoiler quindi per ora chi non avesse visto il film andateci perché io consiglio sempre di andare in sala a vedere il film è uscito in sala bastava la piattaforma streaming ma io mi lamento sempre del fatto che non escono al cinema meritano molto di più altri film che aspettiamo da anni comunque andate a vederlo tornate a vedere il resto del video una volta aver visto il film in questione perché voglio fare una piccola parte spoiler perché voglio tornare su alcuni aspetti quelli che ingannano quelli che imbrogliano narrativamente lo spettatore tu non puoi farmi un colpo di scena quindi attenzione questa è la parte spoiler tu non puoi farmi un colpo di scena dove a un certo punto vediamo che l'orsacchiotto non esiste ed è visto solo dalla bambina e dalla donna jessica quando il film il l'orsacchiotto è stato visto perlomeno anche da uno dei personaggi il tontolone di turno che si fa spaventare dal suono extra diegetico che lo vede sotto l'asciugamano ma che probabilmente lo vede anche in altri frangenti comunque vede la cordina comunque vede la sagoma quindi comunque c'è e non è solamente un amico immaginario potrebbe essere è un qualcosa di passabile questo no perché di peggio il peggio avviene quando noi spettatori lo vediamo oggettivamente presente quando lo vediamo ai piedi del letto quindi nessuno sta guardando non ci sono soggettive delle due protagoniste che se lo immaginano non ci sono semi soggettive che possono anche lì giocare con lo spettatore perché vedo una spalla della protagonista che vede un qualcosa che non c'è ma io non me ne accorgo me ne accorgerò solo con il colpo di scena e no tu mi fai vedere l'orsacchiotto anche nel controcampo in cui c'è il dialogo tra chi vede un qualcosa di immaginato e noi che vediamo con i suoi occhi ma quando c'è il controcampo e vediamo di spalle l'orsacchiotto la cosa non sta più in piedi allora me lo togli dall'inquadratura allora me lo togli dall'immagine ma se me lo fai vedere è oggettivamente presente come quando è presente ai piedi del letto all'inizio del film insomma sono una serie di errori che si incastrano uno dopo l'altro e che arrivano poi a delle situazioni prevedibili dove i tempi dell'horror della tensione sono completamente sbagliati quando jessica parla con quella che crede essere la ragazzina sotto le coperte ma lo sanno tutti benissimo che sotto le coperte c'è l'orsacchiotto e con dei tempi sbagliati dilatati in maniera sbagliata non si arriva al colpo di scena quando è alla spavento quando sentiamo la ragazzina fuori dalla finestra e scopre che c'è l'orsacchiotto sotto che all'inizio del film si muove come dovesse essere l'aspetto più terrificante del film e poi c'è questo questa scoperta di questo altrove di questo elemento al di là anche qui risibili con situazioni involontariamente comiche un prefinale dove la nostra protagonista rimane intrappolata e non è uscita dalla situazione ecco che c'è potreva poteva esserci il finale che poteva in parte risollevare il film no fanno di peggio vanno avanti lieto fine con la battuta finale con la hall la scena nella hall dell'hotel dove tutti capivano hanno capito che l'orsacchiotto che si intravede è un bambino che sta giocando non contenti di questo ancora rovesciando le carte imbrogliando un po tutti in quella situazione lì l'orsacchiotto diventa di nuovo immaginato dal bambino perché la madre di quel bambino lì nella hall non vede l'orsacchiotto peccato però che tutte e tre le protagonisti l'hanno visto c'è di tutto in questo film ci sono pasticci che si sommano uno con l'altro insomma il film l'avete visto commentate come al solito ditemi la vostra e alla prossima